Addirittura sei anni fa in Coppa UEFA, dunque 1-0 per il Grasso per quarto minuto Efane Koku, il nigeriano subito a segno, attenzione a Ronaldo, prima palla buona per lui ancora Ronaldo, il destro e c'è la parata di Uber E' tornato, è tornato Ronaldo con brillantezza, rapidità non ha cercato la soluzione, era avvicinata, poteva anche esplodere il suo scatto potente ma invece ha cercato il tiro dal limite bella la parata di Uber, non molto angolato ma abbastanza potente il suo tiro Ecco Gheorgatos che cerca la palla lunga su Ronaldo, trovato benissimo Ancora Ronaldo, l'uno contro uno di Ronaldo, contro Odell, difensore nazionale svizzero Ancora Ronaldo, cerca il numero, è il pertugio per il cross, cross che gli viene ribattuto palla in calcio d'angolo, è una buona Coe intercetta molto bene la palla destinata a Smiglianic, chiede subito lo scambio con Paolo Sosa detta il passaggio, Jugovic in profondità per Ronaldo che cerca lo scatto Ronaldo, non esce Uber, ancora Ronaldo, palla in mezzo e poi non riesce Zamorano Ma c'è stato un fallo, c'è stato un fallo Anzi, togliamo il forse, non c'era calcio di rigore, malgrado le proteste Pone ancora il brasiliano, in mezzo c'è Zamorano, ancora Ronaldo, l'uno contro uno con Odell Può vincerlo Ronaldo, Ronaldo che cerca di mettere in mezzo e conquista un altro calcio d'angolo Lo vediamo tra 5 secondi Il vero rum di Cuba è Havana Club, l'alma di Cuba Lì vicino Colonnese Fresi Parte il lancio in profondità, Coe lo intercetta Paolo Sosa cerca il dialogo di prima con Zamorano Gioca bene l'Inter, ancora Zamorano Paolo Sosa Ronaldo addomestica molto bene la palla E impegna severamente Volker Grande, grande il movimento di Ronaldo che ha stoppato il pallone Portandoselo già in posizione di tiro Prima che la palla toccasse terra Ecco esplode il suo destro Calibrato, non potente Ecco che interviene ma dovrebbe essere più al centro dell'azione Ronaldo in dribbling, ancora Ronaldo cerca il tiro da lontano E va a chiudere sul palo alla sua destra Volker Può velitare la conclusione secondo me da quella distanza Ha provato Ronaldo ma ha calciato in maniera debole E troppo centrale Ci auguriamo che Marcello Lippi non ci tolga lo spettacolo Ronaldo nel secondo tempo Vediamo che comunque il fenomeno brasiliano Ancora benzina nel suo motore Dunque potrebbe dare ancora E resta il dubbio Attenzione a Ronaldo, ancora Ronaldo C'è libero Zamorano ma cerca l'azione personale Ronaldo! Impegna Uber ma Zamorano era da solo Questa volta egoista Ronaldo Voleva cercare Gloria da solo Dopo aver fatto due grandi assist Bel numero di sinistro Bella anche la conclusione Volker è stato bravo a rimanere in piedi fino alla fine Ma Zamorano era in mezzo da solo